Guardi le manche del 2, arrivati, è stato un po' di giro. Dai, buona voce! In giro per il 4! C'è un po' di giro per il 4! In giro per il 4! E quando vedo di là, non ci sto dentro più! In giro per il 4! Non ci sto dentro più! Io faccio vedere il 5! Grazie a tutti. 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 a tutti.